Qua è saltato il gingolo, stamattina stanno saltando un po' di cose, mi stanno saltando anche i nervi, no scherzi a parte. Buongiorno Demetrio. Buongiorno a tutti. Allora, stamattina dovevamo essere in quattro, invece vi ritrovo in due. Perché? Che è successo? Niente, è un impegno improvviso di lavoro, manca il nostro esperto in agronomo. Carmelo Mallamaci, chiedo scusa, non sentivo Carmelo Mallamaci, ma c'è Luigi Modafferi, professore Modafferi, che agliederà tutti i nostri radioascoltatori e anche videoascoltatori. Allora, siamo qui per parlare dello zafferano di Motta San Giovanni. Non ti senti bene? Posso alzare il volume? Si può alzare il volume? Ti senti? Sì, adesso sì, mi sento bene. Ok. Nella strumentino che hai davanti puoi alzare il volume, se puoi. Ok, ok. Ok. Allora, dicevamo, siamo qui per parlare dello zafferano di Motta San Giovanni. Io sono rimasto sconvolto perché mi ero interessato allo zafferano qualche anno fa quando ho letto che viene prodotto da Motta San Giovanni. Ho detto, no, qui ne dobbiamo parlare alla radio perché voglio incuriosire anche i nostri ascoltatori. Ma prima di entrare nel vivo dell'argomento, siete qui perché avete realizzato un libro. Sì, un libro, un'idea di qualche mese fa insieme all'amico qui presente Luigi Modafferi, agronomo e lui l'esperto del settore. Io mi sono occupato un po' della parte giornalistica. Un libro che presenteremo sabato 23 giugno alle 17.30 presso l'Associazione Imprenditori Agricoli Mottesi in via San Giovanni Teologo a Motta San Giovanni. Anche questa è una notizia, sapere che esiste un'associazione di agricoltori mottesi per me è una notizia, è una bella notizia però. Da quello che sappiamo sono anche parecchi gli associati di questa impresa. Noi proprio sabato presenteremo questo libro, introdurrà Valentina Mallamaci che è una collega giornalista, poi ci saranno i saluti di Giuseppe Anghelone che è il presidente dell'Associazione Imprenditori Agricoli Mottesi e seguirà poi appunto la descrizione di questo libro che facciamo ancora una volta a vedere anche ai videoascoltatori di videotouring, di Carmelo Mallamaci e di Luigi Modafferi. Con lui ti diverterai quest'oggi a parlare di Zafferano, non solo di Motta ma anche di Zafferano in generale. Noi diamo appuntamento a tutti al 23 giugno alle 17.30 per la presentazione ufficiale di questo libro, Lo Zafferano di Motta San Giovanni, con l'editore EAS Promotion, con Claudio Aloisio, Marcello Spagnolo, Peppe Briganti, vorrei ringraziare anche Carmen, Antonella e tutte le persone che si sono adoperate nell'agenzia alla stesura di questo libro. Devo farti una domanda, come è nato questo libro? Da che è venuta l'idea? Una semplice chiacchierata con Luigi e Luigi voleva scrivere qualcosa, sapeva della mia, diciamo, che sono adentrato nella stesura di libri, non di questo settore ma di sport. Da questa idea proprio poi abbiamo coinvolto Carmelo che era in possesso di foto e siamo riusciti a partorire questa iniziativa che speriamo ci dia, già ci ha dato in questi giorni parecchie soddisfazioni e speriamo che continui su questa lunghezza d'onda. Se non ricordo male tu sei anche cronometrista, quindi avete fatto il libro col cronometrista. Sì, sì, perfetto, a tempo. Fantastico. Allora, io quasi quasi entrerei nell'argomento. Allora, la cosa che mi ha colpito circa due anni fa era aver letto un articolo in cui si spiegava che un grammo di zafferano da alcuni ristoranti di Las Vegas o di New York veniva pagato anche 50 euro, purché fosse biologico e fosse italiano, anzi per l'esattezza toscano. È così, dottore? Sì, in effetti lo zafferano riesce a spuntare prezzi altissimi, soprattutto quando è coltivato in particolari condizioni, soprattutto biologiche, e non si fa uso di pesticidi o altro. Credo si riferisse allo zafferano, quello toscano di San Gimigliano, prodotto in provincia di Siena. Esatto, sicuramente perché è puro, non è tagliato. Mi spiegavi prima che quello che noi compriamo al supermercato tutto è, tranne che... Spesso, diciamo, viene tagliato con altre sostanze come la curcuma o coloranti vari. Ecco, chi si fosse messo all'ascolto adesso su Turingo, vi dote che dice, ma di che parlano? È tagliato, sembrano cose strane. Stiamo parlando dello zafferano, che ultimamente ha conquistato davvero grosse fette di mercato, ma soprattutto i chef più prestigiosi, quelli stellati, utilizzano solamente la bacche... com'è che si chiama? Pistillo si chiama? Sì, gli stimmi sarebbero, perché il fiore dello zafferano poi ha un pistillo trifido che si divide in tre stimmi, che è la parte che viene raccolta per essere poi essiccata e utilizzata come zafferano. Allora, cominciamo dall'inizio. Cominciamo dall'inizio. Questo era per incuriosire gli ascoltatori. Allora, quello di cui stiamo parlando intanto è anche una cosa curiosa, interessante, eccetera, però dal mio punto di vista potrebbe essere anche una risorsa occupazionale. È così? È così, poiché lo zafferano può essere coltivato nei terreni più marginali, dove non serve magari molta acqua, oppure dove le zone sono diciamo meno vocate per essere utilizzate come coltivazioni più redditizie. Leggevo che in Toscana forse hanno il problema di avere troppa acqua, quindi viene coltivato in collina. Sì, in effetti lo zafferano predilige terreni che siano ben asciutti, quindi se siano un po' in pendenza il terreno si presta meglio. Mi dicevi prima che il paese al mondo che ne produce di più è... Il 90% viene prodotto in Iran. Che di acqua non è che abbiano fatto. Mentre quello che lo commercializza è la Spagna. Ah, cioè lo comprono in Iran e lo vendono in Spagna. L'Italia ha una piccola percentuale di commercializzazione. Però a quanto come buona parte del food italiano è quella che viene apprezzata di più nel mondo, è così? Come qualità diciamo organolettica dello zafferano è una delle migliori, soprattutto quello prodotto che dicevi tu in Toscana, oppure quello della Sardegna. Ok, e invece il nostro di Motta San Giovanni che era sconosciuto anche a noi reggini? Allora, lo zafferano è nato dall'idea così inizialmente sperimentale del mio collega Mallamaci che prima ha piantato poche parcelle di terreno dello zafferano. Poi, vista la redditività di questa spezia, ha esteso diciamo alla sua azienda la coltivazione. Ora è arrivato a commercializzarlo anche diciamo a livello internazionale. Bene, siamo felici. Lo esporta anche in America. Entriamo un attimo nel dettaglio. Allora, io bene o male ho letto qualcosa, però vorrei che lo spiegassi tu. Come si... da dove si comincia? Ecco, che cosa serve? Intanto un terreno dove non ci sia neanche tanta acqua. Però il terreno deve essere esposto al sole. Come funziona? Deve essere esposto al sole e predilige magari dei terreni più... che abbiano una base calcica. Ok, quindi non molto acido. Non siano asfittici, argillosi. Ok. Perché lo zafferano è un bulbo tubero, viene seminato. Da cui inizialmente poi spuntano le foglioline. Ok, quindi tra gli ascoltatori chi ha un pezzo di terreno che corrisponde a questa descrizione può cominciare a pensarci. Prima fase. Allora, la caratteristica poi dello zafferano è quella di non produrre un vero seme. Quindi si produce solo per via vegetativa. Cioè dal bulbo... Come le patate. No, le patate sono i tuberi. Ah, ok. Come i fiori, dai. Come i fiori, il tulipano. Ok, benissimo. Per rendere un po' l'idea. Il bulbo tubero produce dalle gemme altri bulbi. Ah, ok, ok. Altri bulbi. Praticamente, se tu hai un bulbo, lo coltivi bene, da questo bulbo te ne escono due o tre. Esattamente. Ok, li puoi tagliare e ripiantare. Il ciclo può essere o annuale, per la produzione dello zafferano, o poliannuale. Ma si predilige, almeno per quanto riguarda l'azienda Orfei, questa di Motta, il ciclo annuale. Cioè ogni anno lui ripianta i nuovi bulbi. Che daranno la produzione... Toglie il bulbo, lo taglia e da uno... No, non è così. Spiegami, spiegami. Allora, praticamente, il bulbo tubero, una volta seminato, lui produrrà poi le foglioline e il fiore. Ok, perfetto. Dopo che viene staccato il fiore, si lascia in vegetazione le foglie. Ok. Verso la fine dell'estate, queste foglioline seccano. Ok. Il bulbo rimane nel terreno, ma ha già prodotto dei bulbilli accanto dalle gemme. Quindi si stacca, praticamente, si raccoglie il bulbo e si avranno da uno, magari, tre, quattro altri bulbilli. E quindi si ripianta subito? Si ripianta per l'anno successivo, per la produzione dell'anno successivo. Quindi si ripianta subito, però? No, no, si ripianterà, questi vanno immagazzinati. Ok, infatti era questo che volevo capire. Sì, vanno immagazzinati e poi ripiantati nuovamente. Ecco, sto facendo la figura dell'idiota, però, per spiegare perfettamente all'ascoltatore come funziona. Non è difficile, giusto? Non è molto difficile. Diciamo che è poca l'utilizzazione dei macchinari, quindi la meccanizzazione nella produzione del zafferano è poca. Solamente, forse, per quanto riguarda la semina dei bulbi. Quello è faticoso. Diciamo, no, si può utilizzare qualche macchina semina invece per la raccolta dei bulbi. Ma, entretutto, il resto viene fatto manualmente. A mano, infatti. Quindi la sfioritura, la raccolta dei fiori, la sfioritura dei simboli simili. Esatto, e lì non lo può fare la macchina, farlo piano piano, con delicatezza. Anche perché la vera ricchezza è quello. Insomma, se hai perso un pezzetto di quello, ti sei giocato metà del lavoro. Come dicevi tu, sì, arriva a spuntare prezzi intorno pure a 30 euro al grammo. Tieni conto, per formare un grammo di zafferano servono 150 fiori. Ah, vedi là. Allora, piano piano. Comunque, invitiamo tutti a comprare il libro che avrà tutta la spiegazione. Luigi sta, in questo momento è molto esplicito, però poi con il libro si capirà molto di più anche che è illustrato il libro. È un'opera abbastanza carina dove Luigi ha, con le foto, illustrato proprio tutto quello che ci sta spiegando in questo momento. Ma infatti io l'avevo detto all'inizio, poi alla fine ci dimentichiamo che siete qui per il libro. Allora, mi è sembrato di capire che si pianta a luglio, giusto? No, non si pianta. Quando si pianta? La raccolta di fiori avviene in autunno, quindi a novembre. No, no, cominciamo quando pianto il bulbo io. Il bulbo in primavera si pianta. In primavera, quindi attorno ad aprile? Sì. Ad aprile pianto il bulbo. Lo devo innaffiare? Allora, se ci sono delle condizioni d'estate molto siccitose, sì. Ok. Ma se no, non è necessario. Ok. Generalmente, diciamo, alle nostre latitudini non viene. Quest'anno, se il tempo come quest'anno è stato molto secco. Allora, poi comincia a fiorire quindi in autunno, tra la fine di ottobre, mi pare di aver letto. Fine ottobre, inizio novembre, sì. E lì va raccolto nell'arco... La caratteristica è che spuntano i primi fiori delle foglioline. Ok. E dico, va raccolto nell'arco di una due settimane, giusto? Eh sì, perché il fiore, diciamo, appena spunta non può rimanere tanto in vegetazione. Deve essere raccolto entro uno o due giorni al massimo. Benissimo. Qui arriva la parte complicata, almeno da quello che ho letto io. Una volta raccolto il fiore con delicatezza, quindi tutto il fiore si stacca, giusto? Sì. Nella fase di raccolta. Viene portato in magazzino e lì che succede? Viene portato, diciamo, dove ci sono le condizioni per poterlo lavorare. È staccato manualmente i vari simmi. Ok. E poi viene essiccato, quindi messo vicino a una stufa a intorno ai 40-45 gradi. Lasciato anche per diverse ore. Ok. Non forte la temperatura. Ma appunto, anche perché si rischia di perdere tutto il raccolto. Cioè, se è poco tostato o troppo tostato, praticamente si perde il raccolto. È lì che ci vuole il manico. Diciamo le qualità organolettiche vanno via, perché sono le molecole molto volatili. Allora, io le... sì, dimmi, dimmi. No, dicevo che la caratteristica sua è di avere quel tipico odore un po' di fieno, che è dovuto al safranale. Ah, è una molecola, diciamo, molto volatile. Quindi, se non viene ottimizzata l'essiccazione e la lavorazione, va un po' via. Allora, io ho visto diverse confezioni. Quella che noi troviamo al supermercato abbiamo detto che è tagliata, quindi è già polverizzato e mischiato con altri. Però, quella che pretendono i ristoratori americani è dentro delle boccettine e lì il... come dire... com'è che si chiama il... no, il... Il simbi. Esatto, lo stimmi. Stimbi. Ok. Lì è intero, dentro la boccettina. Sì, è quello, diciamo, è più... Il più pregiato. Il più sicurezza. Esatto. Perché non può essere, diciamo, tagliato. Esatto. Cioè, tu lo vedi intero. Allora, è quello che costa molto di più perché lo vedi esattamente come è. C'è la possibilità di essere, diciamo, utilizzate altre sostanze. Ecco. Se riusciamo lo facciamo a vedere. No, no, devi alzarlo perché la telecamera è qua, vedi. Non so se si vede, purtroppo è piccola. Quella è la telecamera. Ok. Vabbè, dai, adesso vedo se riesco a trovare un modo per farlo. E stavo facendo la domanda. Sì, su queste boccettine. Quindi viene frequentemente quello pregiato, viene confezionato dentro queste boccettine e sigillato. Diciamo da più sicurezza. Ok. Affinché non si... Ma quando è tostato, non è delicato, non si può rompere, non si rischia di rompere... Sì, va bene, ma poi l'utilizzo deve essere fatto... Ok. Cioè, io sto facendo... Diciamo come polvere, no? Da un aspirante coltivatore, perché la cosa mi incuriosisce parecchio. Senti, allora, ci sono altri argomenti molto interessanti. Tu prima mi hai messo in guardia perché esiste un finto zafferano, o sbaglio? Esattamente, sì. Infatti qualche anno addietro è successo anche in Italia, mi sembra, in Veneto. No, no, ma anche qua vicino a Serra San Bruno mi pare. Sì, qualcuno anche qui ha raccolto quello che è lo zafferano bastardo, il colchico autondale. Il zafferano bastardo è fantastico. Sì, si chiama proprio così, viene comunemente chiamato. Che è una famiglia diversa dal zafferano, diciamo, utilizzato in cucina. Perché quello appartiene alla famiglia dell'iliacee, mentre lo zafferano, il croco, appartiene alla famiglia dell'iridiacee. Una famiglia botanica completamente differente. Però il fiore è simile. È simile, anche se fiorisce in epoche differenti. Mentre lo zafferano, diciamo, quello utilizzato in cucina, fiorisce a novembre, quello fiorisce in primavera. E si trova anche a quote, diciamo, pure elevate. Infatti quelli, mi pare, in Veneto, intorno ai mille metri hanno trovato, hanno raccolto questo fiore. Che poi, poverini, sono morti. Eh, quelli sono morti, invece, l'altra storia che avevo detto io, eh, lì, hanno fatto il risotto. Adesso non entro nel dettaglio perché non me la ricordo completamente, però sono finiti in ospedale diverse persone. Perché forse la quantità era minima. Abbiamo detto che è un veleno quello, giusto? Sì, perché contiene la colchicina, a differenza dello zafferano comunemente usato in cucina, che invece contiene la crocina o pirocrocina, che è la caratteristica del colore. Ok, fermiamoci perché se no ci arrestano per l'istigazione a delinquere. Magari c'è qualche marito che vuole, o qualche moglie che vuole far fuori. Però posso dare qualche dettaglio perché il fiore del colchico, dello zafferano bastardo, non ha tre stimi, ma ne ha sei. Ah, ok. Quindi la differenza, oltre all'epoca di fioritura e la quota in cui si può trovare, c'ha questa piccola differenza. Quindi... Un occhio ben attento riesce a notare. Minimo investimento, massimo arresa. Quello è tre, quello è sei. Vuoi far fuori tutta la famiglia, ha fatto un fiore. Scherzi a parte. Allora, veniamo a noi. Quanti addetti, quante persone ci lavorano a Motta San Giovanni per questo progetto? Allora, il discorso è dell'azienda Orfei che è gestita a livello familiare, quindi intorno sempre 6-7 persone servono per portare avanti la produzione dello zafferano. Perché abbiamo detto che buona parte del lavoro è manuale. Manuale, esattamente. Perché per staccare proprio gli stimmi non può essere altrimenti. Mentre la parte di semina dei bulbi oppure quelle che sono le lavorazioni del terreno può essere effettuata con i macchinari. diciamo che è abbastanza redditizia se si tiene presente che può spuntare intorno ai 20 euro, 30 euro mediamente al grammo lo zafferano. Ma anche i costi di produzione non sono indifferenti perché c'è mano d'opera. C'è molta mano d'opera. Quindi una famiglia, voglio dire, un'azienda della conduzione familiare può avere dei buoni risultati, diciamo. Esattamente, un chilo di zafferano arriva a costare poi 20 euro, 20 mila euro. Appunto, infatti, caspita. La domanda che mi pongo io, può essere, come dire, per la nostra terra un'occasione di sviluppo? Ma sicuramente pure per i giovani agricoltori che si vuole mettere, diciamo, vuole mettere su un'azienda, una piccola azienda, può essere una fonte di reddito. Sicuramente, magari associata ad altre coltivazioni, dà più sicurezza, diciamo, per l'azienda. Alla fine, visto che il lavoro che richiede è impegnativo, ma non è poi, come dire, non ti prende tutto il tempo per tutto l'anno. Quindi, per esempio, se c'è una vigna, faccio un esempio stupido, Puoi consociare lo zafferano, oppure gli oliveti. Esatto, gli oliveti, stavo per dirlo. Sì, perché credo che il terreno sia simile a quello dove gli olivi... Sì, intorno a quella fascia fitoclimatica. Quindi, a proposito, a che altezza si produce? Intorno ai 500 metri, qui, dai 400 ai 500 metri. Quindi sotto i 500 non va bene? Diciamo che non è che non viene poi a fiorire il bulbo, perché anche se lo metti nel vaso ti trisci a casa. Però le qualità delle organolettiche dello zafferano risultano migliori a quelle condizioni pedoclimatiche e fitoclimatiche. Quindi tutta la fascia preaspromontana, ionica e tirrenica, dal tuo punto di vista, è ideale? Dal mio punto di vista sarebbe preferibile forse l'ionica. Ok, perché è più secca, è più rivolta a sud, ecco, se vogliamo. È esposta, diciamo, a... Quindi... Però, vuol dire, anche nel vaso, è bello anche da vedere come fiore. Ok, infatti. Si può coltivare... No, l'ultima domanda, perché siamo quasi in chiusura, è l'investimento. Perché c'è un investimento, bisogna comprare i bulbi, giusto? Sì. E lì quanto costano? E il prezzo dei bulbi, esattamente, io non è che sia, dovremmo chiedere a Carmelo Mallamaci, il nostro collega. Ecco, ho fatto la domanda. Perché lì è prescritto a quattro mani, dicevo, da me e da Carmelo, anche se lui ha curato molto più la parte delle immagini. Allora, da quello che ricordo io, non è molto... Non è eccessivo. Esatto, ma non è neanche tanto basso. E poi, contate una volta, magari... Esatto. Anche se non abbiamo parlato, non c'è un'adversità, dico dello zafferano, perché è soggetto a molti funghi. Vi lasciamo alla lettura. Ah, è vero, è vero. Però, voglio dire, stiamo un po' svelando tutti i segreti. Lo sveliamo troppo, da coordinatore editoriale vi blocco un attimo, invitiamo tutti ad acquistare il libro. Eh, infatti. Volevo ricordare che questo libro rientra anche in un progetto di formazione della Mallamaci Grandi Impianti, che ha supportato la pubblicazione e la stesura di questo libro, quindi in un progetto molto più ampio, anche a livello turistico, che ha messo in atto la Mallamaci Grandi Impianti. Un libro, ricordiamo, scritto da Carmelo Mallamaci e Luigi Modafferi, con il mio supporto di coordinamento editoriale. Ti rubo qualche minuto, Lucio, perché vogliamo pubblicizzare il libro alla grande. Invitiamo tutti sabato sera alle 17.30 a Motta San Giovanni presso l'Associazione Imprenditori Agricoli Mottesi. Durante la serata presenteremo il libro e non solo, ci sarà anche un ricco buffet per chi vuole salire a degustare. A base di zafferano. A degustare ci sarà anche qualcosa a base di zafferano. Invitiamo tutti gli amici a salire a Motta, non sarà solamente l'evento della presentazione del libro, ma ci sarà anche una degustazione di prodotti tipici. Invitiamo tutti a comprare lo zafferano di Motta San Giovanni, un libro scritto a quattro mani, come diceva Luigi, da Carmelo Mallamaci e Luigi Modafferi, il supporto della Mallamaci Grandi Impianti, il mio coordinamento è della Orfei Azienda Agricola, appunto, che produce lo zafferano. È una guida alla coltivazione, produzione, lavorazione e utilizzo dello zafferano. Luigi, non svegliamo altri segreti? No, allora, gli ultimi dettagli, questa parte sembra importante, ma la trovate nel libro. La troviamo nel libro. Delle avversità, dei funghi, aspetta che ritorno con la camera. Quindi questa è una parte importante, ma la trovate nel libro. L'ultima domanda finale, dove possiamo trovare il libro? A parte sabato. A parte sabato, seguiteci su Facebook per avere altre notizie, ci sarà al momento, già subito l'edicola canale Katia a Reggio Campi, che già da sabato mattina possono trovarlo e poi su Facebook Demetrio Galluso, già a Ziendorfei, troverete le indicazioni da domenica mattina dove poterlo trovare. Ok, bene, ragazzi, è stato veramente molto interessante, spero che anche i nostri ascoltatori abbiano gradito la vostra presenza. Dimmi, dimmi. No, volevo fare un in bocca al lupo agli studenti che oggi tengono l'esame di maturità. L'abbiamo fatto da stamattina. Noi ringraziamo molto te per la tua disponibilità, per l'invito, grazie a te e grazie anche all'editore Santo Frascati. Che ci aspetta di là, magari ci offre il caffè adesso. Quindi abbiamo già detto tutto, vi ho fatto vedere anche la locandina. Il prossimo appuntamento è per sabato, 23 giugno, ore 17.30, via San Giovanni Teologo, Motta San Giovanni. Per il resto i nostri amici vi aspettano su Facebook. Ecco, sto prendendo tempo perché mi mancano 20 secondi, quindi se avete qualche domanda, abbiamo incuriosito, cercate i nostri amici su Facebook e lì potete fare tutte le domande, ma soprattutto il consiglio è andare a comprare il libro. Il costo non è eccessivo, solamente 5 euro. Ah, 5 euro, questa è un'ottima idea. Grazie amici, è tutto, ci sentiamo noi tra poco e con voi ci vediamo sabato pomeriggio a Motta San Giovanni. Grazie. Grazie. Ciao.